...unico delle emergenze, qual è la sua emergenza? Da dove chiama signora? Sì? Da Teramo? Via? Numero civico per favore? Sì, cosa succede? Da Teramo? Benissimo. Sì signora, mi dà nome e cognome? Per favore, grazie. C'è un riferimento signora? Sì? Scriviamo subito. Rimanga in linea per favore e non riagganci e così le passo ai carabinieri di Teramo. Buongiorno, c'è un intervento sul Teramo via Cona. Grazie, le passo l'utente e non riagganci. È sufficiente una manciata di secondi agli operatori del numero unico europeo per le emergenze 112 per comprendere la natura della richiesta di aiuto e l'esatta localizzazione del chiamante prima di interessare l'istituzione di soccorso sanitario o di emergenza che prenderà in carico la chiamata. Questa rivoluzione nel campo dell'emergenza, di cui tutti i 27 stati membri dell'UE dovranno dotarsi per uniformare le procedure di richiesta di aiuto, è partita il 12 marzo scorso, quando erano direttamente collegate alla centrale unica di risposta solamente gli utenti dei distretti telefonici di Pescara, Chieti, Lanciano e Basto. Da oggi a questi si sono aggiunti anche distretti di Teramo, L'Aquila, Sulmona e Avezzano. Da oggi completiamo lo switch sul numero unico di emergenza 112 di tutta la regione con i distretti telefonici di Teramo e i tre distretti telefonici della provincia dell'Aquila. Quindi dal pomeriggio di oggi tutta la regione sarà servita dal servizio 112. Grazie ad una capillare campagna di comunicazione che partirà nel prossimo mese di aprile si sta promuovendo sulla popolazione l'utilizzo dell'app Where Are You alla quale l'utente potrà rivolgersi in qualsiasi momento del giorno o della notte per chiedere aiuto anche in particolari situazioni in cui non sia possibile utilizzare la voce. Noi stiamo spingendo affinché tutta la popolazione possibile scarichi l'app Where Are You che è un'app gratuita ovviamente che si trova sugli store dei nostri cellulari dove è possibile precaricare i nostri dati e con un semplice click mandare la richiesta di aiuto dove già viene identificato sia il chiamante che la sua localizzazione e significa risparmiare secondi, minuti che sono preziosi per il soccorso. Nei primi 14 giorni di servizio, quando erano collegati solo gli utenti dei distretti telefonici di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto gli operatori NUE hanno gestito 11.256 chiamate di queste 5.898 sono state trasferite alle centrali di secondo livello Polizia di Stato, Polizia Autostradale, Carabinieri, Emergenza Sanitaria, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto, pari al 52,56% delle chiamate totali.